Sessioni storiche, geografiche, antropologiche in programma per la due giorni dedicata all'approfondimento sui paesaggi contemporanei. Quest'ultimo, infatti, il titolo del convegno nazionale, apertosi con la prima giornata a potenza nell'Aulamagna dell'Ateneo Lucano a Rione Francioso, dove sono intervenuti numerosi studiosi di diverse università italiane. La seconda giornata di lavori è in programma a Matera. L'iniziativa si inserisce in quel filone che intende comprendere e misurare i cambiamenti del paesaggio agrario italiano lungo il corso di un divenire storico ambientale. Con un richiamo all'eredità scientifica di Emilio Sereni, il convegno intende connettere e presentare i lavori di storici, geografi e antropologi studiosi delle varie discipline. L'iniziativa rientra nelle manifestazioni di Matera 2019 e vede il sostegno della BCC di Laurenzana e Nova Siria e della Confederazione Italiana degli Agricoltori. È un'iniziativa che nasce da lontano, nasce da altri convegni nazionali a cui il professor Morano ha partecipato come docente della nostra università e come ricercatore che da anni si occupa di problemi legati alla storia del paesaggio, soprattutto alla storia del paesaggio agrario, in partenariato con importanti istituzioni come per esempio l'Istituto Emilio Sereni o l'Istituto Fratelli Cervi. Interverranno anche geografi, economisti, urbanisti, antropologi che dialogheranno su questo tema dei paesaggi contemporanei con gli storici. Ora, questo è un convegno nazionale sul paesaggio e si svolge qui. Il paesaggio è un elemento importantissimo nella nostra regione. Noi siamo pienamente integrati come banca locale in questa regione e il paesaggio è forse uno degli elementi da sfruttare. Non potevamo mancare come banca del territorio.